La Sede di Lavoro di Via Brancati Ci sono dei brevi video tutorial che illustrano i percorsi. I percorsi sono tre, diciamo dal centro commerciale Euroma 2 a qui, che si può prendere dall'uscita della ciclabile del Tevere, poi sempre dalla ciclabile del Tevere ci sono due percorsi fino a Via Brancati per novizi e per professionisti e poi invece il percorso dalla metro laurentina. Per qualsiasi informazione potete contattarmi, sono Federica Aldighieri e sono referente per la mobilità ciclistica.